99 scimmie saltavano sul letto, una cade a terra e si ruppe il cervelletto, e insomma Cosa possiamo dire? Sto ancora ridendo per cose che poi vi spiegherò, ma insomma il classico Disney di stasera, come potete aver ben intuito, è il quarantesimo del 2000 che è quella grande perla, nonché gemma e meraviglia, masterpiece of the universe Che è le follie dell'imperatore E allora Sono le 1 a un quarto, non c'è stato un cazzo di nessuno per tutto il tempo, inizio l'audio e in meno di un minuto passo un altro sotto casa, va bene, va bene Dicevo, quella meraviglia che è pietra miliare dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO, che è le follie dell'imperatore The Emperor's New Groove Ora, quali erano le mie condizioni con questo film? Le mie condizioni con le follie dell'imperatore è che, non mi odiate, è uno dei film Disney che non avevo mai visto prima Prima di stasera non avevo mai visto le follie dell'imperatore, avevo visto soli i trailer, nelle videocassette, nei DVD Sarò sincero, sarò sincero, mi dispiace non averlo visto da bambino perché penso che lo avrei adorato ancora di più Però Ragazzi, c'è un po' di cosette da dire su questo film All'inizio pensavo non ci sarebbe stato quasi niente da dire, ma un vostro amico che è entrato da poco in questo gruppo Che è il nostro caro Matteo Croc Che solo per stasera, lo chiamerò Matteo Cronc, solo per stasera Mi ha aiutato a scoprire molte cose riguardo questo film E quindi penso che un piccolo momento di apprezzamento vada anche a lui Sentite orgoglioso Croc, sentite orgoglioso E insomma E niente, ci sono svariate ragioni per cui volevo vedere questo film La prima è per il fatto che giustamente non l'avevo mai visto e lo volevo recuperare Numero due, che si va un po' a ricollegare a questa ragione qui È perché avevo sempre visto soltanto trailer, soltanto trailer La terza ragione era perché Allora, un tempo il film della Disney che dovevi aver visto per forza Era Il Re Leone Non riesco a pronunciare il titolo di quel film restando calmo E... Un tempo era Il Re Leone il film della Disney che Ma come? Non l'hai visto? Devi vederlo Come fanno ad aver visto un leone? C'è uno spiegato di merda Non meriti di vivere Ti ho attento alla cittadinanza E... Adesso, improvvisamente, negli ultimi due, tre anni Il Re Leone non se l'è cacato più un cazzo di nessuno E il film della Disney che tutti devono aver visto nella vita È Le Foglie dell'Imperatore E un po' l'ho guardato anche perché così la gente smetteva di cagarmi il cazzo Con... Oh, non ho visto Le Foglie dell'Imperatore Che sfigato che sei Ma come fai a dire che hai vissuto una vita? E niente E... La ragione numero quattro Per cui ho voluto vedere Le Foglie dell'Imperatore Lo dico così spudoratamente Senza pudore È per capire meme È per capire un sacco di meme Perché, ragazzi, io non pensavo Ma... Apparentemente questo film È fonte di tantissime meme su YouTube Cioè, su YouTube, proprio sul web E ci arriveremo a parlarne Ci arriveremo a parlarne, ragazzi Credo che questa sarà una recensione molto... Molto esilarante Uff Beh Da cosa possiamo partire? Da che cosa possiamo partire? Io direi partiamo dalla trama Direi partiamo dalla trama, ragazzi E... Ho scritto qualcosa Ma non mi ricordo che cosa Ah, ok Nulla, nulla Io direi che possiamo partire dalla trama Allora, che cos'è A livello di trama Le Foglie dell'Imperatore? Allora, le Foglie dell'Imperatore C'è stato un po' di macelli A livello di trama Ma credo che ne potremo parlare più avanti Per ora, diciamo solo la trama Di quel che vediamo a schermo Praticamente È la storia di questo Imperatore Azteco Penso sia comunque Epoca Azteca Maya Quelle robe lì E... Di questo Imperatore E... Che... Per l'appunto Non gliene frega niente degli altri Pensa soltanto a se stesso Tipo Vabbè Se qualcuno si deve fare male Cazzo i suoi Io vivo per me stesso Letteralmente Non gliene frega di nessuno E... Nulla, nulla E mi piace molto Com'è costruita La prima... Una delle prime scene con Cuzco Che è per l'appunto Il suo nome Che... Ovviamente Convoca al suo palazzo Questo paesano Di nome Pancia Pancia Giusto? Pancia Ho scritto il nome di quell'altro Che palla Io spero di aver visto Paccia Paccia Non Pancia Paccia C'ero quasi C'ero quasi Dove invita questo paesano Paccia A palazzo Perché gli deve chiedere delle cose Ed è bello vedere come lui si presenta Tutto amichevole Tutto figo E ti fa credere Che sia un personaggio Buono Eccetera eccetera E poi all'improvviso Diterà l'inculata Del Ah no Ti ho chiesto Come fosse la sua valle Perché ci voglio costruire una piscina Ti butto giù la casa Ci voglio costruire una piscina Perché domani è il mio compleanno E... Insomma E... E' molto bello Come è costruita la scena Perché te fino a quel punto Simpatizzi per Cusco E poi di punto in bianco Te lo rende una merda E apprezzo tantissimo Come è resa questa cosa Perché ti mette esattamente Nei panni di Paccia Che anche lui giustamente Viene convocato a palazzo Non conosce l'imperatore Cioè Lo conosce di nome Cioè Cusco Cusco ci viene presentato Con una canzone Che per l'appunto Durante la canzone Si vede E' fatta apposta E farti vedere Quanto lui Possa comandare Su tutto e tutti Però te lo fa vedere In maniera figa In maniera bella E proprio ti fa capire Io sono quello che ottiene Quello che vuole Schiocco le dita E mi ritrovo Una tavola imbandita E quindi Penso che a livello Tecnico Si possa definire come Sentir parlare Di Cusco Il grande imperatore Che può avere Quello che vuole E Giustamente Veniamo messi Sempre nei panni Di Paccia Che per l'appunto Viene convocato a palazzo Non conosce Veramente Cusco E quando lo conosce Per la prima volta Gli si presenta Come un personaggio Tutto amichevole Bello Uè Fra Come stai Come stai Benissimo Sei proprio una persona Che mi serviva Grandissimo Senti Vivi in questa valle Bellissima Mi racconti un po' Com'è E per l'appunto Si presenta come un personaggio Amichevole Poi di punto in bianco Diventa stronzo Di punto in bianco Dice quella volta Quella cosa Di punto in bianco Dice quella cosetta Che ti fa capire Aspetta c'è qualcosa Che non va E poi dopo realizzi Che è stronzo E non gli ne frega Nulla degli altri E mi piace un botto Come è stata fatta Questa scena Perché ti mette Esattamente nei panni Di questo Paesano sfigato E Prima di mente Cosa succede? Succede che Per l'appunto Cusco Licenzia Anche uno Dei suoi lavoratori Che è la consigliera Izma E Izma è per l'appunto Questa vecchia Vecchia Bruttissima Decrepita Che per l'appunto Ogni tanto cerca Di fregargli il posto Però lui dice Sei qui da un po' Troppo tempo Sei licenziata Ciao Aspetta cosa vuol dire Sono licenziata? Vuol dire che sei licenziata Dai Tutti andati nel mio momento Della pensione Tu hai arrivato Più o meno 50 anni fa Insomma La scarica Proprio così Come dire Come dire Ho sputato per terra Ciao Non ci vediamo più Soltanto che Izma le rodea Un pochettino il culo E quindi Con l'aiuto del suo Braccio destro Cronk Che io lo dico subito Cronk è il miglior personaggio Di tutti i film Mi spiace ragazzi Voglio un intero film Solo su Cronk E credo che la Disney Lo abbia fatto Credo che la Disney Abbia fatto un film Interamente su Cronk E lo voglio troppo vedere Anche solo a livello Di demenzialità Perché se è a livelli demenziali Del primo Foglio dell'imperatore Lo voglio vedere E Praticamente Izma Inizia ad architettare Un piano Per uccidere Cusco Così che lui muore E lei può prendersi il trono Soltanto che Cronk Incasina un attimo I piani E invece che ucciderlo Invece che versargli Del veleno Nel bicchiere Per uccidere Cusco In realtà gli versa una pozione Che lo trasforma In un lama Può ancora parlare Però Cusco A livello estetico Diventa un lama E Praticamente Izma dice a Cusco Senti sei stato un coglione Adesso lo ammazzi te E quindi Cusco Dovrebbe Star per ammazzare No scusami Cronk dovrebbe star per ammazzare Cusco Però a dei momenti in cui Non posso farlo Non posso farlo E succede per ammazzare Cusco E succede per ammazzare Cusco Con una sola inquadratura Con una sola inquadratura Ti fa capire Quanto hanno E quanto lui è dispiaciuto Che stia per perdere Perché uno stronzo Decide di costruirgli Una piscina sopra E mi piace tantissimo Come è costruita Questa scena Mi piacciono le scene Che con una sola inquadratura Riescono a dirti Praticamente tutto Mi piacciono un botto E insomma Praticamente Paccia si accorge Che Si trova questo lama Davanti E appena scopre che parla E riconosce Dalla voce Che è Cusco E poi dall'inizio Anche una situazione Di conflitto Di Senti Io sono Io sono l'imperatore Mi interessa tornare a casa E costruire quella piscina Eccetera Paccia invece Il personaggio buono Che Anche volendo Non può essere cattivo È più forte di lui E insomma Fra vari casini Varie litigate Eccetera eccetera La fine diventano amiconi E una volta Che sono diventati Amici Confermati A quel punto Sono successi Vari casini di trama E Isma E Kronk Le hanno sgamati E parte una scena Pseudo in seguimento Verso la città Verso il palazzo di Cusco E alla fine Arrivano lì Battaglia finale Cioè Ora sto tirando un po' Per le lunghe Cioè Ora sto tirando un po' Per le lunghe Quindi cerco di tirarla breve Non so come parlare ragazzi Sono troppo emozionato Da questo film E se ieri sera Non sapevo parlare Riguardo a dinosauri Perché ero Depresso Me la merda Stasera non riesco a parlare Perché sono troppo eccitato E Praticamente Isma Beve una funzione sbagliata Anche lei In realtà non è che la beve Ma succede un casino E si trasforma in un animale Pure lei Si trasforma in un gattino Riesce comunque A fare un po' Il culo alla gente Anche trasformata in gatto Però poi Alla fine Cusco riesce A ritornare umano Isma Non è in grado Di prendere la funzione Di tornare umano E quindi rimane un gatto E alla fine Tutti felici Cusco alla fine Decide di Non costruire la piscina Sulla casa Sulla casa di Paccia E La costruisce però in miniatura Per degli uccellini Vicino a casa sua E per l'appunto Si va anche a trasferire Accanto alla casa di Paccia Lì tutti felici e contenti Cronk Diventa un capo boy scout Che insegna bambini A parlare agli scoiattoli Perché Cronk sa parlare Agli scoiattoli E niente Isma Diventa Sua studentessa Insieme ad altri bambini Insomma No ragazzi Questa è la trama Molto stringata Parliamo un attimo Dell'aspetto visivo Parliamo un attimo Dell'aspetto visivo Credo mi dovrei Togliere gli occhiali Perché stanno iniziando A darmi fastidio Ma ho lasciato La custodia In camera mia Ah Ah i miei occhi Insomma Insomma Disegni a livello visivo Allora A livello visivo Mi ha ricordato un po' Lo stile grafico Di Mulan Un pochettino Perché è uno stile Disegno abbastanza Minimale Ma che comunque Riesce a fare La sua porca figura E ora ho le ciglia Intrecciate Ho le ciglia Intrecciate Che palle Ah E Non la mi piace molto Come è stato disegnato È stato fatto Penso quasi tutto a mano Ormai la colorazione Di film Disney In digitale Ma quello lì Penso che possiamo Non accettarlo Come CGI Penso Perché alla fin fine Abbiamo visto Che la colorazione A digitale Cambia veramente poco Rispetto all'artigianale Ovviamente se prendi Dei disegnatori bravi E madonna I miei occhi Che palle Ah Ah A posto E CGI all'interno Del film Allora Verrebbe quasi Da dire Che non è stata Utilizzata Ma il mio occhio Ultra allenato È riuscito a cattare Quei due Tre secondi Di CGI Ma si parla Proprio di Due minchiate Così Cioè L'unica CGI Che ho notato io Ho lasciato pure Il foglietto In cucina E sto parlando A memoria Sono state Una o due Inquadrature Con il carretto Di paccia È stato Madonna Le mie Ciglia di merda Ah 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 Ahia È stato anche Il coso Il tronco Della scena Sul fiume E Il ponte Sospeso Quando loro stanno A litigarsi E poi si rompe il ponte Credo sono state Le uniche tre scene Dove è davvero Notato Un minimo Di CGI Però Cioè Ragazzi Ragazzi È talmente poca Che È quasi Come dire Che non esiste È quasi Come dire Che la CGI All'interno del film Non esiste Se è stata Utilizzata Per altre scene Proprio a livello Pesante Non me ne sono Letteralmente Accorto Però Sapete cosa Sono abbastanza sicuro Che Le foglie dell'imperatore Sia un film Fatto Praticamente Al 99,9% In artigianale E Nulla 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 Mi è piaciuto Vedere Che a differenza Della schifezza Dinosauri Che in realtà Mi è stato detto Che come film Venne realizzato Semplicemente Per coprire un buco Questa volta Abbiamo fatto Come le altre volte La CGI Invece che rende La parte integrante Del film L'abbiamo utilizzata Soltanto Come supporto E Nulla Nulla Devo dire qualcosa Del character design Non penso Non penso Dover dire nulla Sul character design Vabbè L'aspetto di Izma È fatto apposta Perché ti faccia Aprire il tipo Di personaggio Sia Kronk È il personaggio Tutto muscoli E niente cervello Però è incredibile È fonte di meme Come non mai Però Nulla E Musica Musica Cosa possiamo dire Della musica Niente La musica Abbastanza ok La musica È un buon pollice In su Non è per niente male E per quanto riguarda Le canzoni È È È un punto Interessante Perché in realtà Ci sono soltanto Due canzoni All'interno del film Una di apertura E di chiusura E Praticamente Ci sono Un fottio Di canzoni eliminate Ma perché C'è un fottio Di canzoni eliminate Per il fatto che Inizialmente Le foglie dell'imperatore Non doveva essere Le foglie dell'imperatore Doveva essere un film Completamente diverso E adesso ragazzi Devo prendere Wikipedia Per parlarvene Perché in realtà Questo film Nasce Come Kingdom of the Sun E Soltanto che Nei sei anni di lavorazione Il film venne scartato Per un paio di cosette Probabilmente 25% del film Era già costruito Ora però Devo riprendere gli occhiali Perché ho riacceso Il monitor Allora Aspettate un attimo Ah Ah Allora Per questa Cosa A parte Wikipedia L'avrei scoperto da solo Però me l'ha detto in anticipo Matteo Kronk Quindi Ringraziate un attimo Matteo Kronk Che Ha voluto tantissimo Dirmi questa cosa In anticipo Perché giustamente La riteniamo importante Quindi ti ringrazio Anche io Ci sono foto strane Per la casa mia Oppure No Soltanto Luci In maniera strana E Ragazzi Io Vi vorrei Fare il riassuntone Su che cosa sia Kingdom of the Sun Però non lo sbatti E quindi Anche se è un pochettino lungo Vi leggo direttamente Il pezzo di Wikipedia L'idea di Kingdom of the Sun Ossia il Regno del Sole Fu concepita da Roger Dallers E lo sviluppo del progetto Inizio nel 1994 Il film del 2000 Al momento di proporre il progetto All'allora amministratore delegato Presidente della Disney Michael Eisner Quest'ultimo disse che Virgolette A tutti gli elementi Di un classico film Disney E grazie al suo successo Come regista del Iveleone Quello stesso anno Eisner diede ad Hallers Carta bianca Sia con il casting Sia con la trama Nel gennaio 1995 Variety riportò Che Hallers Stava lavorando Su una storia originale A tema Inca Ah si comunque ragazzi Si Da qualche ho capito Le foglie dell'imperatore È soggetto originale Quindi se non contiamo Dinosauri Le foglie dell'imperatore È effettivamente Il primo film della Disney Con sceneggiatura originale In culo al re leone Nel 1996 Il team di produzione Fece un viaggio A Machu Picchu In Peru Per studiare Gli artefatti E l'architettura inca E il paesaggio In cui questo impero Era stato creato Kingdom of the Sun Doveva essere La storia Di un imperatore Avido ed egoista Che trovava Un contadino Con il suo stesso aspetto L'imperatore si scambia Di posto Con il contadino Per divertimento Proprio come nel romanzo Archetipo Archetipo Di Mark Twain Il principe e il povero Che in realtà Il principe e il povero Avevamo già visto Il rifacimento della Disney Io l'avrò visto Una decina di volte Da bambino Perché aveva la videocassetta Ma va bene Sappiamo tutti Qual è la storia Del principe e il povero Sono È la storia di questo principe E di questo poveraccio Che si incontrano per caso Si rendono conto Di essere praticamente Uno il clone dell'altro E quindi si sono diti Sapete che Sai cosa A nessuno di noi due Piace la vita che sta facendo Quindi scambiamoci di posto Per un giorno Continuiamo Tuttavia La malvagia strega Izma Ha in programma Di evocare Un dio malvagio Su Pai E catturare il sole In modo da rimanere Giovane per sempre Parentesi Il sole le fa venire le rughe Così ipotizza Che vivere in un mondo Di oscurità Le impedirebbe Di invecchiare Quindi in poche parole In realtà Izma non voleva Al 100% Uccidere Cusco Però Izma In realtà Era una vecchia Che si rendeva conto Di essere vecchia E voleva evitare Di invecchiare Ancora di più E quindi Si è detta Rubiamo il sole E su questo dopo Facciamo una parentesi Mi è andata a buio lo schermo Perché sto usando Il computer dei miei Una volta scoperto Lo scambio Tra l'imperatore E il contadino Izma trasforma Il vero imperatore Possiamo dire Cusco In un lama E minaccia Di rivelare L'identità del contadino A meno che lui Non le obbedisca L'imperatore lama Impara l'umiltà Nella sua nuova forma Innamorandosi Di una pastorella Di lama Di nome Mata Doppiata da Non ce ne frega Insieme la ragazza E il lama Sventano i piani Della strega Il libro Real Views 2 Dice che il film Sarebbe stato Un musical Commedia romantica Nel tradizionale Stile Disney No Non serve che abbassi La finestra Ci sta tutto Dopo le deludenti Prestazioni al botteghino Di Pocahontas E il Gobbo Di Notre Dame I dirigenti Dello studio Ritennero A seguito Di alcune proiezioni Di prova Che il progetto Stava diventando Troppo ambizioso E serio Per il pubblico E necessitava Di più comicità All'inizio Del 1997 Il produttore Randy Fulmer Contattò Mark Dindal Sicuramente Avrò massacrato Le pronunce Che aveva appena Concluso il lavoro Su Cats Don't Dance Lo devo vedere E gli offrì Di essere Il co-regista Di Kingdom of the Sun Nel frattempo Allers Chiamò personalmente Sting Sulla scia Del successo Di Elton John Per A comporre Alcune canzoni Per il film E gli acconsentì Ma a condizione Che la moglie Cineasta Trudy Styler Potesse Documentare Il processo Di produzione E qui Le cose diventano Interessanti Ok sto leggendo Cose strane Sul gruppo Il film risultante Intitolato The Sweatbox Fu prodotto Dalla Xingu Films La loro società Di produzione Insieme al collaboratore David Hartley Sting Compose otto canzoni Indissolubilmente Legate alla trama E personaggi originali Nell'estate Del 1997 Fu annunciato Che Allers E Dindal Avrebbero diretto Il film E Fulmer L'avrebbe prodotto David Spade Ed Arthur Kitt Vennero confermati Nei ruoli Dell'imperatore Manco Che all'epoca Cusco si chiamava Manco Manco il nome decente Aveva E della strega Isma Mentre Carla Gugino Era in trattative Per un ruolo Harvey Fierenstein Era stato Scritturato Per il ruolo Di Ukoka Consigliere Dell'imperatore Personaggio Che poi è stato Scartato dopo Un anno dopo Era ormai evidente Che Kingdom of the Sun Non era abbastanza Avanti nella produzione Per essere distribuito Nell'estate del 2000 Come previsto A questo punto Uno dei dirigenti Della Disney Entrò nell'ufficio Di Fulmer E ponendo il pollice E l'indice Ad un quarto Di pollice Di distanza Dichiarò Il vostro film È così vicino Dall'essere annullato Fulmer Avvicinò Allers E lo informò Della necessità Di finire il film In tempo Per la sua distribuzione Nell'estate 2000 Poiché accordi Promozionali cruciali Con McDonald's Coca Cola E altre società Erano già Stabiliti E dipendevano Dal rispetto Di quella data Di uscita Bello lavorare Nel cinema Allers Riconobbe Che la produzione Era in ritardo Ma era sicuro Che con un'estensione Da 6 mesi A un anno Avrebbe potuto Completare il film Quando Fulmer Negò la richiesta Il regista Decise di lasciare Il progetto Il 23 settembre 1998 Il progetto Era morto Con costi di produzioni Pari a 25-30 milioni Di dollari Nel 25% Del film Era già animato C'è anche Un intero Altro paragrafo Però questa era La parte veramente importante Quindi cosa abbiamo imparato Da questo paragrafo Abbiamo imparato Che in realtà Le follie dell'imperatore Doveva essere Una storia Completamente diversa Doveva essere Sì una cosa Completamente diversa Soltanto che Costava troppo C'erano troppi Intrecci Con altre ditte Troppe collaborazioni Che li inchiabardavano La Disney Si è ritrovata In chiabardata E quindi Dobbiamo abbandonare Il soggetto originale E riscrivere quasi Tutto il film Da zero E a questo punto In questo Preciso momento Salta fuori Matteo Kronk Che Mi ha mandato Un video Che si trova su YouTube Dopo ve lo inoltre Che è tipo Questo mini video Di due minuti Di quattro minuti Qualcosa Che è Un pezzetto Di questo documentario De Sweatbox Dove fanno vedere La lavorazione Di questo Kingdom of the Sun E È quasi triste Vedere che Un film come quello Era già animato Al 25% E che Purtroppo Non ha mai visto la luce E temo che Non vedrà mai La luce Un film così Perché Quasi quasi Lo vorrei vedere Sì Lo stile disegno Era molto Era Cioè Il stile disegno Il character design L'aspetto dei personaggi Era Molto diverso Rispetto A quello che è venuto fuori Con le foglie Dell'imperatore Però Un pochino L'avrei voluto Vedere finito Ora The Sweatbox Che è il documentario In sé Un tempo stava su Vimeo Però dato che Vimeo Adesso si è spostato In un'altra parte Quindi Tecnicamente il sito originale Non esiste più Non so dove posso Reperire questo documentario Perché effettivamente Lo voglio vedere E Ma chiudo Mi stava partendo un rutto E Praticamente è arrivato Matteo Kronk Che mi ha fatto Che mi ha mandato Un video Che è tipo Quattro minuti Di questo documentario Ho visto un attimino Un po' di dietro le quinte Ed è stato molto Molto interessante Madonna Lo voglio vedere tutto Ragazzi Pensare che Le foglie dell'imperatore Doveva essere un film Completamente diverso Io mi chiedo Se Uno dei miei amici Sappia di questa cosa La prossima volta Che ci vediamo Gli ne parlo Perché anche lui Sicuramente stava aspettando A gloria Che io vedessi Le foglie dell'imperatore Questo rumore Era il mio collo Che scrocchiava E appena Lo verrà a sapere Perché io ho già scritto Appena domani Accenderà il telefono E vedrà questa mia notifica Dio che dico 99 scimmie saltavano Sul letto Una cade a terra E sviluppa il cervelletto Secondo me Sarà tipo Ben Hai appena riguadagnato 50 punti stima Fotte sega Che non stai lavorando Mi stavo annoiando Quattro Però hai visto Le foglie dell'imperatore E un paio di punti stima Te le riguadagni Spero che vada così Insomma Tra l'altro Dato che ci devono essere Molte più canzoni Dove essere un film Molto più Disney A livello di canzoni E tutto quanto Ora Non le sono state A sentire tutte Ma Matteo Kronk Mi ha inviato Per l'appunto Una canzone In particolare Che è una canzone Scartata Cioè Era completa Ma non è stata usata Nel film originale Non è stata usata Nelle foglie dell'imperatore Perché per l'appunto C'è stati casini Di produzione E quindi Ovviamente Anche se avevano Lavorato A una grandissima parte Del Kingdom of the Sun Chiamiamoli Il Regno del Sole Dato che hanno Già fatto Un fottio di cose Per il Regno del Sole Chissà quanto materiale Scartato c'è E tra l'altro Ho saputo che Nelle versioni Uscite in DVD E in Blu-ray Ci sono molti contenuti Speciali Riguardo a questa cosa Ovviamente Comprirò le foglie Dell'imperatore Solo per questo E porca puttana Questa canzone Di Kizma Che per l'appunto È Snuff out the light Snuff out the light Letteramente tipo Oscurare la luce Qualcosa Di Sime Proprio per dire Spengere la luce Però a livello di La spengo A livello di La estingo E porca puttana Ragazzi Posso dire che È una delle canzoni Da villain Più fighe Che ho sentito Durante la maratona Disney Porca puttana Isma Penso che Si sarebbe meritata Tantissimo Una canzone Porca puttana Snuff out the light È veramente bella E vi linkerò Anche quella E oltre a Non mandate Le gif Delle pubblicità Che lucida Nicomeli Del letto Che palesemente Sono allusioni Ad altre cose Non le mandate Insomma Insomma Cosa volevo dire Cosa volevo dire No Dovete ringraziare Non solo me Ma anche Matteo Kronk Perché un pochettino Ha aiutato pure lui Per questa cosa Dategli un po' Il riconoscimento Di cui ha bisogno E niente Davvero mi dispiace Per questo Regno del sole Che non ha mai visto La luce E probabilmente Non lo vedrà mai Perché Sicuramente Figurati se la Disney Adesso sta a riprenderlo Questo film Anzi Sono sicuro Che se la Disney Riprendesse questo film Ora Lo farebbe in CGI Non lo so Ci rimarrò un po' male Secondo me Quando arriverò A vedere i film Della Disney Che sono fatti Solo in CGI Perché non ci sarà più Non ci sarà più La bellezza Del Questo è disegnato A mano Questo c'è stata Veramente La passione Di qualcuno Ne parleremo Quando ci arriveremo Ne parleremo Quando ci arriveremo Perché prima o poi Dovremo affrontare Questa parentesi Credo che Winnie the Pooh Nuova avventura Nel bosco De Cento Acris Si è a tutti gli effetti All'interno della scaletta L'ultimo film Della Disney Fatto A disegni artigianali Questa cosa Mi rompe un po' il cuore Ma comunque Stavo ancora parlando Delle follie Dell'imperatore Ehm Niente Tanto in Snap out the light C'è stato un piccolissimo Pezzo Che quasi ho pensato Di sentire Megalovania Però in realtà Ho quasi pensato Di sentire Megalovania Che era tipo Uscita Che ne so Sette anni dopo Cioè perché Undertale è uscito Nel 2015 Ma Megalovania Esisteva già da prima Perché era Per l'appunto Ehm Era una colonna sonora Di un fan game Che è nato Prima di Undertale Sempre fatto da Toby Fox Soltanto che C'è stato un pezzo Che mi era quasi sembrato Tutdu 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 Però tipo era Questo qui Però con qualche nota in meno Però erano quelle Secondo me Toby Fox Sapeva di questa cosa E l'ha creata su quello Perché gli piaceva il motivetto E niente Niente Madonna ragazzi I brasiliani Sono riusciti a rendere Megalovania meme Ancor prima Del suo tempo che bello insomma insomma solo in pochi sapranno a cosa mi sto riferendo e insomma direi che ora parliamo un attimo delle meme o dei meme o per proprio i rompicoglioni cagacazzi di voi che si dice il meme no si no si dice la meme per evitare tutti questi rompimenti di cazzo che sia questo rompimento di cazzo che voi che è stata a contestare queste cose siete rompimenti di cazzo the memes ecco dirò the memes così in inglese il soggetto è it e non rompete il cazzo ma sapete cosa andatevene a fare in culo io dirò il meme e la meme in base a come mi gira perché non me ne frega una mazza e insomma ho dovuto vedere questo film anche per i meme perché alcuni li conoscevano in italiano e altri li conoscevano in inglese e chi fosse una lingua fosse l'altra avevo troppa voglia di vedere come fossero stati adattati nella lingua apposta quindi in poche parole cioè un meme conoscevo in italiano volevo sapere come fosse stato tradotto in inglese come era in realtà in inglese e come alcuni inglesi sono stati adattati in italiano ragazze niente già quando abbiamo paccia che fa ok con la mano che dice nella versione italiana me lo sono perso che cosa dice perché mi ricordavo che faceva l'ok con la mano ma non mi ricordavo che dicesse qualcosa e nella versione originale dice when the sun hits them just right perché per l'appunto cusco aveva il modellino della città prima di uscirgli la piscina e lui giustamente doveva dire come erano le colline a livello estetico e tutto quanto lui dice when the sun hits them just right e fai l'ok con la mano quella è già una meme quella è già una meme e poi abbiamo aspetta aspetta madonna ragazzi madonna ragazzi cronk è materiale per meme in questo film e niente poi c'è la scena dove cronk sta par a sia l'angioletto e il demone sulle spalle che sono versioni angelo e demone di se stesso che dato le può vedere soltanto lui c'è infatti una scena dove lui parla da solo e finalmente isma cusco e faccia lo stanno guardando per parlare solo e tutti e tre sono tipo ma che cazzo sta facendo insomma è la scena dove cronk si deve per l'appunto liberare di cusco l'ha gettata in acqua e poi giustamente c'ha i due c'ha le due coscienze che dicono no non lo fa no non lo fare salva l'un altro gli dice non ascoltare l'angelo ascoltamente io ho tre ragioni e tipo una delle ragioni è guarda che cosa so fare fa tipo le flessioni nella mano sola e cronk giustamente è lì che gli dice questo che cosa ha a che fare nella versione originale l'angelo giustamente gli dice no no he's got a point insomma in italiano è stata adattata con no 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 è un valido aspetta diceva sì no no è un valido argomento in italiano è stata adattata così però ridevo troppo perché sapevo che in inglese era no no he's got a point insomma un'altra meme è ah sì ce n'era una incredibile che era gli sma quando si presentava come finta parente di paccia e diceva che era tipo la zia della bisnipote della prozia della suocera della nuora da parte di mamma e poi dopo c'era cronk che saltava la corda insieme ai bambini che fa per appunto 99 scimmie saltavano sul letto una cadarretta a terra e si ruppe il cervelletto che non ho capito bene come fosse in inglese era più o meno simile però non era proprio perfetta però sarò sincero quella mi è piaciuta molto di più in italiano 99 scimmie mi è piaciuta molto di più in italiano che in inglese e aiuto e poi c'era per appunto sempre nel ristorante me la sono un attimino persa c'è niente su questo menù che galleggi sopra una brodaglia grassa vado a domandare allo chef e quella la conoscevo perché un mio amico aveva fatto un un video ricerca per scuola sugli antenati nostri gli uomini di neandertal soltanto che aveva usato gli ugandan nacles e un sacco di meme fra cui ve l'appunto vado a domandare allo chef e tra l'altro ragazzi voi non avete idea voi non avete idea la scena del ristorante tipo mi ha stesso la scena del ristorante stavo perdendo i polmoni non ce la stavo facendo era esilarante era una cosa dietro l'altra era una perla dietro l'altra il mio cervello non ce la stava più facendo a immagazzinare tanta efficità no ragazzi io devo far vedere le follie dell'imperatore ai miei devo far vedere le follie dell'imperatore ai miei perché porca puttana questo è un filmone sono sicuro che la dovrebbero guarda persino mio padre che gli stanno sul cazzo i film della disney proprio perché cantano lui non sopporta i film dove si canta ed è uno dei motivi per cui stanno sul cazzo i film disney gli posso dire guarda sai che cosa ti faccio vedere le follie dell'imperatore c'è una sola canzone all'inizio una sola canzone alla fine per tutto il resto non c'è niente già con quello secondo me io ce lo prendo già solo me con quello lo convinco a guardare le follie dell'imperatore e poi un'altra meme a sì sì quando cronk inizia a realizzare che il tizio che ha visto il ristorante era paccia e che quindi affattamento del aspetta se io trovi contadino troviamo il villaggio se troviamo il villaggio troviamo casa sua se troviamo casa sua troviamo il lama oh yeah it's all coming together che in italiano dice i conti tornano oh sì i conti tornano it's all coming together ragazzi c'è un fottio di meme c'è uno strafottio di meme in questo film ragazzi posso dire che finalmente mi sono fatto una cultura mi sono finalmente fatto una cultura squeakity squeak squeaker squeak io non so più che cosa dire non so più che cosa dire perché questo film è una perla io quasi mi chiedo come cazzo ho fatto a vivere finora senza vedere le follie dell'imperatore e dato c'è una citazione a tarzan nel film quando paccia deve salvare kuzco da delle pannelli pensavo fossero pantera e poi il film ha detto che erano jaguari e quindi niente tanto che erano jaguari tutti quanti neri quindi boh boh baghera era una pantera no ed era nera va bene va bene e nulla che per appunto arriva paccia che fa proprio letteralmente il verso di tarzan quindi penso che nel 2000 la dis sì sì nel 2000 la disney aveva ancora i diritti di tarzan perché kingdom hearts del 2002 quindi si avevano ancora i diritti lo potevano fare e nulla nulla ah sì comunque no è bello vedere anche come ogni tanto il film si prenda per il culo anche da solo un pochettino usa un paio di gag che sono fatta apposta per prendersi un po per il culo da solo come film di qualche scena di personaggi però appunto si rendono conto che c'è qualche cosetta che non torna a livello di realtà che tipo stanno tipo si stanno inseguendo fra di loro però vedono letteralmente in terra che stanno creando loro la mappa ed è tipo un qualcosa tipo 4 però il punto più più alto è stato la rottura della della quarta parete quando per l'appunto durante l'inseguimento is my cronk finiscono dentro un dirupo si presume che sono stati messi fuori gioco ma quando kuzco e paccia arrivano al laboratorio di isma lei è già lì e giustamente gli dicono come è fatto da arrivare qua prima di noi e isma è tipo beh cronk come siamo arrivati qua prima di loro e in italiano cronk gli dice letteralmente a parte come siamo arrivati no cronk dice una cosa non l'ho scritto ma diceva una cosa proprio per dire ma non lo so in realtà se lo stanno chiedendo pure in sala l'ha detto davvero io lì stavo piangendo tipo anche io mi dicevo come hanno fatto ad arrivare i figli e cronk è tipo non lo so nemmeno io sono sicuro che se lo stiano chiedendo pure in sala e il bello è che non hanno dato una spiegazione su come siamo arrivati lì prima quindi stava proprio tipo alla presa di culo ultima e in inglese invece dice proprio una cosa che tradotto è tipo per i miei calcoli non ha senso come siamo arrivati qua according to my calculus this doesn't make sense è bellissimo e nulla nulla e nulla nulla mi è stato detto sempre da matteo cronk che in italiano kuzco e cronk sono stati doppiati da luca e palo di camera caffè e grazie per avermelo detto perché io camera caffè l'ho visto in maniera proprio ultra occasionale e quindi non è che abbia un ricordo da dire o mio dio era bellissimo ricordo ogni singolo episodio e niente niente cosa volevo dire cosa volevo dire volevo dire qualcosa no a parte di cronk sapevamo già tutti io sapevo già in partenza alcune cose come la famosa scena del cronk tira la leva l'altra leva perché abbiamo anche solo una seconda leva ma va bene quella lì la conosciamo tutti perché nei trailer è sempre stata messa quella scena però va bene va bene sto pensando se c'è un altro paio di cosette che dovrei dire sto pensando non credo ci siano altre citazioni a parte tarzan non penso proprio nulla nulla ho finito la recensione finita andate in pace e nulla arriva il momento in cui devo decidere fra doppiaggio italiano e doppiaggio inglese interessante è molto interessante perché entrambi i doppiaggi sono veramente veramente belli entrambi i doppiaggi rendono tantissimo sono fatti estremamente bene col cuore però se mi dovessi trovare a scegliere o uno o l'altro se dovessi schierarmi obbligatoriamente da una delle due parti è cazzo è veramente tosta è veramente tosta ragazzi perché non avete idea di quanto entrambi i doppiaggi siano estremamente di qualità quindi forse forse potrei dire doppiaggio italiano potrei dire doppiaggio italiano perché c'è quelle due tre cosette che sono curate un attimino meglio però credo che sia anche per il fatto che doppiaggio italiano è il primo che ho sentito e quindi magari è proprio quella filosofia del l'ho sentito per primo quindi è meglio cioè probabilmente se l'avessi sentito prima in inglese avrei pensato che il doppiaggio inglese era meglio però sapete cosa forse come per due cazzatine in croce il doppiaggio italiano un attimino meglio di quell'inglese però consiglio una visione di entrambi anche soltanto per cultura generale a livello di meme quindi siamo a 42 minuti ormai abbiamo capito che 42 minuti è tipo la norma e dato che c'è un problema stasera non c'è il pacchetto di biscotti o meglio c'è un pacchetto di cose aperte ma sono tipo fette biscottate che farebbero un macello assurdo però in confronto c'è un succo di mirtilli senza zuccheri aggiunti zero conservanti zero coloranti contiene naturalmente zuccheri della frutta e quindi ora mi prendo un bicchiere e beviamo quello perché gli zuccheri fanno abbastanza bene signori non so se fanno bene tipo alle due di notte però le accettiamo lo stesso quindi ora il telefono va un attimo qua e ci versiamo un po di succo perché è buono ma c'è questo mobiletto che tutte le volte che lo apro sento l'odore di tutte le spezie che ci sono perché questo è l'armadietto delle spezie non stavo pisciando stavo versando il succo di mirtilli ragazzi un giorno io entro in botta un giorno io entro in botta soltanto aprendo questo armadietto e ora aspetta quest'altro dei bicchiere dei piatti si chiude e beviamo beviamo il sangue degli innocenti che il colore è quello madonna che buon odore di mirtilli che c'è ok 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 e non penso di avere altro da dire a parte no taci no taci non si tocca non si tocca e che fai tocchi e cosa diceva in italiano diceva proprio che fai tocchi e io mi ricordavo che in inglese diceva no taci perché un tempo vidi un let's play del gioco per ps1 delle foglie dell'imperatore che però il gioco era in inglese tipo tutte le volte che prendeva danno cusco diceva no taci e niente niente mi ricordo che il gioco per ps1 era smattoso cioè era smadonnoso perché vedevo questa persona che ci smadonnava un botto perché alcune cose erano un macello da fare però ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta lapis e ci avviciniamo a segnalo come è visto e a questo punto il prossimo film che dobbiamo vedere è atlantis l'impero perduto che atlantis l'impero perduto l'ho già visto una volta tipo due stati fa penso una o due stati fa perché me lo fece vedere andrea me lo fece vedere dingo guardingo barra cartoncino bristol che forse voi su youtube se siete vecchi del canale conoscerete come falli forà e niente me l'ha fatto recuperare tipo una o due stati fa e quindi nulla nulla penso di non avere altro da dire e niente niente a posto a posto buonanotte gente buonanotte a tutti bacio della buonanotte è stato un bacio mille volte più rumoroso di quel che mi aspettassi non volevo fare così tanto rumore ciao piccolo post scriptum riguardo alle foglie dell'imperatore in realtà mi devo togliere le ciabatte perché sennò si sente rumore dei miei piedi mentre cammino e insomma ho guardato oggi il documentario The Sweatbox e per chi di voi per quelli di voi che non lo sanno The Sweatbox è un documentario che fa vedere la lavorazione al film delle foglie dell'imperatore e in poche parole fanno vedere tutto quanto da come sono partiti con Kingdom of the Sun come si sono evoluti tutti i casini hanno fatto vedere un po' come è stata vista come è stata vissuta e affrontata la vicenda del cambio completo di film all'interno degli studi perché giustamente lavori a un film con tutto il tuo animo e quando almeno il 20-25% del film è completo ti dicono bisogna cancellare tutto e ripartire da zero con cose completamente nuove sono cose un pochettino tristi e niente niente è un documentario molto molto interessante io vi consiglio di guardarvelo se avete voglia e niente è molto bello vedere tutti i retroscena la lavorazione del film è stato molto bello vedere quanto si erano impegnati a creare Kingdom of the Sun e è stato quasi triste guardarlo col pensiero del prima o poi a loro arriverà la notizia che Kingdom of the Sun non funziona e che devono cambiare completamente tutto e nulla nulla per quanto sarebbe potuto essere probabilmente un film fallimentare da una parte mi sarebbe piaciuto vedere Kingdom of the Sun completo ma guardate ma io mi acconterei di vederlo anche soltanto a bocce non colorate perché per quanto la trama potesse essere pseudo riciclata dal principe il povero con un po' di modifiche sarei stato comunque interessato a vederlo sarei stato comunque interessato a vederlo nulla toglie a Le Folli dell'Imperatore perché Le Folli dell'Imperatore resta comunque un film molto molto interessante e divertente quindi niente penso di aver concluso la mia parentesi il documentario di The Sweatbox lo potete trovare su YouTube se non lo hanno cancellato vi metto il link qui sotto e niente niente io vi consiglio di guardarvelo prima che YouTube lo rimuova per copyright e se al momento della pubblicazione di questa recensione su YouTube è già stato rimosso per copyright mi dispiace per voi guarderò se ci saranno altri modi detto ciò penso di aver concluso veramente ogni cosa ringraziate di nuovo Matteo Kronk che mi ha girato il link del documentario e tanti saluti bella